Anche il termine sicurezza in sicurezza è molto ampio perché non si può negare che a Napoli ci siano reati, che a Napoli ci siano stati omicidi e che a Napoli ci sia tantissimo da fare ancora sul tema della sicurezza. Però, io l'ho detto anche in questi giorni, Napoli sta passando un concetto di sicurezza che a me piace tanto, l'abbiamo detto sin dal primo giorno del nostro insediamento, che la sicurezza si costruisce molto attraverso la cultura, attraverso il riempimento degli spazi della città con i suoi abitanti, con i suoi cittadini, con le sue iniziative. E vedere ad esempio in questi giorni, ma ormai a Napoli è sempre così, quindi non è solo nei giorni festivi, tanta gente per strada che si sente sicura, perché io parlo con i turisti, i turisti si sentono sicuri complessivamente nella nostra città. Vuol dire che questo concetto di sicurezza, inteso come stare insieme all'interno di una comunità, è qualcosa che si percepisce e sta passando e quindi ovviamente non mi può che far piacere che Raffaele Cantone, che tra l'altro ha anche lavorato come pubblico ministero a Napoli, sappia fare un ragionamento ampio. Cioè che Napoli innanzitutto non è la città d'Italia con il maggior numero di reati, come qualcuno ci ricorda su alcuni manifesti della nostra città, ma che il concetto di sicurezza è un concetto molto più ampio. Quindi credo che questo è un ragionamento che bisogna continuare a fare per eliminare gli episodi di violenza, i reati e ancora le sacche di insicurezza che anche ci sono nella nostra città, ma Napoli sicuramente è un luogo dove si può vivere ed è un luogo soprattutto dove si può venire a capire che cosa sta accadendo nella nostra città.